Buongiorno a tutti stamattina vi saluto da Spiderman di qualsiasi faccio questo video per ringraziare tutti i siti nuovi 168 e 169 da Massimo Bregoli Massimo Bregol Massi Bregol e Spiderman 1 e 2 Buongiorno a tutti i primi sono Cosi, Cosanima, Eva, Martina, Elena, tutti, Gisela, amore mio, tutti presenti perché siamo aiutanti, sette, non posso dare tutti in mente e buongiorno a Marvel, tutti, anche a Ginger, Emma, tutti quelli che vanno parte da me comunque vi saluto oggi ho voluto ringraziarvi domani mattina lo farà Marzi Bregol un saluto a voi, vi ringrazio a tutti e stasera a 12 e mezza farò un live per ringraziarvi personalmente su Instagram basta che vi iscrivete a Massimo Bregol e vedete comunque niente a poco vi saluto spero che questo video ve lo calchi e niente spero di qualsiasi per servizio vostro i miei iscritti e chi mi vuole bene come personaggio e come amore tanto tanto amore vi do sette dei miei preferiti grazie